La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Ben ritrovati a tutti da Francesco Amodeo. La Premier Giorgia Meloni, dopo essere volata negli USA ad incontrare Biden, e su questo non possiamo avere nulla da obbiettare perché ovviamente il suo ruolo istituzionale glielo impone, e corsa però ad incontrare Henry Kissinger, l'ex segretario di Stato americano. Ed è qui che io voglio aprire una parentesi e porre alcune questioni alla vostra attenzione. Henry Kissinger ormai ha oltre 100 anni di età, non ricopre più incarichi ufficiali in America, quindi c'è da chiedersi perché una Premier in carica vola negli Stati Uniti e dopo aver incontrato il Presidente USA si affretta ad incontrare un personaggio che non ha più incarichi ufficiali. Oltretutto hanno avuto un lungo colloquio a Villa Firenze, la residenza dell'ambasciatrice d'Italia. La Meloni ha detto che è stato un privilegio e un onore dialogare con lui e che Kissinger, per la Premier Meloni, è una delle menti più lucide, punto di riferimento della politica strategica e della diplomazia. Cito le sue testuali parole. Bene, se anche la Meloni avesse potuto mantenere la sua di lucidità, si sarebbe quantomeno resa conto, ricordata, che Henry Kissinger è anche l'uomo che minacciò Aldo Moro poco prima che Moro fu ucciso. Kissinger è quello dell'operazione Condor in Sud America, fiancheggiatore del dittatore Videle in Argentina, per il quale boigottò addirittura gli sforzi di Catter, di fermare i massacri. Kissinger è tra i responsabili del golpe di Pinochet in Cile ai danni di Allende, ma se anche volessimo restare soltanto in Italia, oltre al caso Moro, dovrebbe ricordare la Meloni che Kissinger è stato il deo ex macchina dell'operazione Gladio in Italia, quella controversa operazione clandestina della CIA. È stato fiancheggiatore di Licio Gelli, con il quale era proprio in Argentina, ai mondiali del 78, sugli spalti, insieme a Videla. I Kissinger Cables lo vedono come uno dei protagonisti dietro molti fatti che riguardano la strategia della tensione in Italia. Allora mi chiedo perché incontrare un personaggio così controverso, un personaggio che è dietro le principali trame oscure in Italia, perché incontrare un personaggio del genere che non ricopre più un ruolo ufficiale, quindi non è un incontro imposto dal suo ruolo nel paese ospitante. La risposta è molto semplice. Questo incontro, altro non è che il simbolo della sudditanza del nostro paese ai diktat di quel cartello americano che opera indisturbato in Italia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi. Quel cartello che io ho approfondito è trattato nella mia ultima inchiesta, il cartello finanziario, accendendo un riflettore proprio sul ruolo di Henry Kissinger. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.